Siamo a Bari in occasione della seconda edizione del congresso dell'Accademia Italiana Limpiedismo e abbiamo il piacere di parlare con il professor Cortelli. Che differenza c'è tra distonia vascolare e vegetativa o da ipotensione ortostatica? Una differenza fondamentale. Noi vogliamo parlare di questo argomento perché vogliamo togliere il concetto di distonia vascolare e vegetativa, che purtroppo è ancora usato, e sostituirlo con un concetto molto più moderno e realistico che è quello dell'ipotensione ortostatica. In pratica l'ipotensione ortostatica è un disturbo misurabile caratterizzato da una caduta della pressione quando passi da sdraiato in piedi. In questo modo il cervello è poco irrorato e produce ovviamente molti sintomi. Questi sintomi sono legati al calo della pressione che a sua volta è dovuto a una insufficienza vegetativa. Quindi il termine distonia va lasciato unicamente a un problema muscolare e non va relazionato a nessuna alterazione di tipo vegetativo. Si è parlato anche di disturbi del sonno e di ipotensione. C'è qualche correlazione? C'è una certa correlazione. I pazienti con Parkinson quando si hanno una quantità di disturbi cosiddetti non motori, cioè tutto quello che non è motorio, indubbiamente associano i due domini clinici. Cioè da una parte hanno una caduta della pressione in piedi che può essere naturalmente fuoriera di una serie di sintomi anche vaghi come la stanchezza, la fatica, l'astenia, ma hanno la caratteristica che appena ti sdrai passano perché il sangue arriva al cervello. I disturbi del sonno sono spesso relati a questo, nel senso non legati alla pressione, ma perché i sistemi che controllano la pressione sono anche correlati ai sistemi che controllano le nostre diverse fasi del sonno, in pratica il cosiddetto central autonomic network. E questo sostanzialmente può essere una, il suo disfunzionamento può essere causa dei disturbi più noti come per esempio agire i propri sogni, oppure avere dei movimenti nelle gambe che come vengono definite senza riposo, che rappresentano un punto di grande impatto perché causano un'insonnia e con l'insonnia di notte la sonnolenza diurna che sappiamo avere un impatto deleterio nella qualità di vita dei nostri pazienti. Spesso la malattia di Parkinson è associata a segnali nel movimento, ma esistono anche marker non motori. Sì, oggi lo studio di questi disturbi non motori non solo è importante per curarli quando il paziente le ha, ma è anche importante per evidenziarli precocemente, perché spesso precedono l'esordio motorio. In questo senso a Bologna in collaborazione con il professor Franceschi abbiamo uno studio europeo in corso molto importante che si chiama Propag Aging, nel quale sostanzialmente si studia proprio quanto precoci sono questi disturbi rispetto all'esordio della malattia e se si dimostreranno in maniera scientifica questa precocità, chiaramente lì sarà il momento di iniziare una terapia neuroprotettiva che oggi purtroppo non abbiamo, ma che molte industrie stanno studiando in maniera molto aggressiva. Da parte dei familiari dei caregiver c'è al di là del marker motorio appunto una possibilità di cogliere questi segnali? Il caregiver sicuramente se dorme col paziente coglie i disturbi del sonno, perché dormire vicino a uno che agisce sui sogni diventa immediatamente riconoscibile, sono proprio i partner di letto che suggeriscono al paziente di andare a fare una visita. Per quanto riguarda i disturbi di giorno legati alle disfunzioni vegetative come l'ipotensione autostatica, lì il punto chiave è qualsiasi disturbo che passa quando ti sdrai può essere sospetto di ipotensione autostatica, qualsiasi.